Grande protagonista di oggi, davvero ha sostituito Becao alla perfezione e allora ti chiedo un'altra reazione di questa squadra. Monza, Sassuolo, Inter e anche la partita scorsa a Verona e oggi con l'Atalanta, insomma, siete sempre pronti a reagire? Sì, è una buona reazione dell'equipe, ha fatto molti match in cui siamo menuti al score e arriviamo a tornare. Abbiamo un'equipe che fa preuve di carattere e è la nostra grande forza, quando siamo menuti arriviamo a fare fronte e a tornare al score. Sì, sono molto contento di essere venuti qui, in più abbiamo fatto un molto buon debito di saison, quindi è molto bene per noi. A noi continuiamo, è sicuro che mi piace di fare il mio primo match qui in tant che titolare e sono contento che siamo venuti al score e ora prepariamo il secondo match alla Lazio. Ha detto che ovviamente è molto contento di essere qui, poi è ovviamente vero che se la squadra fa bene anche l'inserimento per i nuovi è facilitato. Lui qua si trova da dio e si è già proiettato alla prossima gara contro il Lazio. La prossima gara contro il Lazio, sono pronti? Sì, siamo pronti per la Lazio, è chiaro che è una grande squadra, però parliamoci chiaro, siamo in serie a tutte le squadre sono difficili, noi continueremo a lavorare come stiamo facendo dal primo giorno e continueremo ovviamente. a giocare come sappiamo con la speranza di portare a casa un risultato.